Ci stare in pace, questa creatura. Non è mica uno di quelli che frequenta la casa sua. Questa è la creatura santa. A casa mia ci viene solo gente seria, importante. Questo che sta suonando, sai chi è? È il figlio del cavaliere del lavoro Rusconi. Bella cosa. A casa mia ci vengono anche dei deputati, sa? Pure quelli, quello che sono buoni. ...i baffi. È il fascista. Lui è il fascista, no? Mi ricordo, mi ricordo. È il proprio domani? Ma sì che io do il voto che io ho promesso. Viva il Duce. Sì, vede, la mamma e il papà di Umberto hanno tanta speranza in lui. Sperano solo in lui. E mia figlia di cuore debole. Lei sa cosa vuol dire un figlio. Ma lo voglio fare anche io un figlio, sa? Brava.